163. Guarigione del figlio dell'ufficiale. Quando Gesù tornò per la seconda volta a Cana di Galilea, c'ero anch'io. Il cambiamento dell'acqua in vino si era risaputo e la gente corriva ad ascoltarlo. Gesù, circondato dai suoi discepoli, approfittava per insegnare tante cose, per annunciare il regno di Dio. Tutti erano attratti dalle sue parole. Qualche volta si fermava e si creava subito un gran gruppo di persone che volevano vederlo. Si muoveva per la città, anche se preferiva la campagna, dove trovava spazio per essere ascoltato con più facilità. Fu allora che mentre parlava arriva di corsa un uomo, tutto trafelato, che lo interruppe sopplicandolo per il figlio che stava per morire. Mi passò davanti e subito il mio sguardo si incontrò con quello di Gesù. Se non vedete segni e prodigi voi non credete. Mi sembrò di sentire lo stesso apparente rifiuto quando gli dissi che era finito il vino. Allora voleva dire che la sua ora avrebbe cominciata proprio con me. Ora voleva far nascere la fede nei suoi insegnamenti con quel prodigio che stava per compiere. Signore scendi, aveva detto il funzionario del re, va, aveva risposto Gesù. E il miracolo avvenne. L'uomo credette ancora prima di ricevere la conferma della guarigione del figlio. Mi passò di nuovo accanto. Lo fissai. Il mio Gesù non poteva mentire e non poteva lasciare inesaudita la sua supplica. Chiedeva soltanto un inizio, come allora chiese ai servitori di dattingere acqua e di portarla al responsabile della mensa. L'acqua si cambiò in vino. Il figlio del funzionario del re fu guarito. Gesù è pronto a compiere i suoi prodigi oggi come allora. Ma donammo da sempre qualcosa. Vuole almeno la volontà, il desiderio della fede. Alle nozze di Cana non la chiese a me che gli domandavo di intervenire. Questo dono aveva già permeato tutta la mia vita, insieme alla pienezza di grazia con la quale fui concepito. La chiesa ai servi permise che fossi io ad allargare al mondo intero l'invito di fare tutto quello che egli avrebbe detto. Al funzionario del re chiese di credere alla parola, alla sua parola di vita. Era semplice. Tuo figlio vive, ma rifletteva già tutta la vita che Gesù era venuto a portare all'umanità. Stai qui davanti a me, ma stai anche davanti a Gesù vivo e vero nel sacramento dell'Eucaristia. Vorrei che sentissi anche tu, come me, questa parola di vita. Vivi, ripete Gesù, e la febbre delle passioni si acquieterà. Credi in Lui e credi in me che sto sempre al suo fianco. non avere paura di chiedere, di supplicare, di presentare con insistenza le tue necessità. Gesù vuole che credi che Egli può tutto.